No, 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 tu l'hai già fatta, prima la dà solo, l'hai già fatta, allora, facciamo tutti insieme, aspetta, no, allora, no, la sta facendo, aspetta, aspetta, stai lì, facciamo tutti insieme, dai, se venite qui, continuiamo la ripresa, dai, Conte che è arrivato, no, chi fa la porta, il podio è qua, Sergio, se venite qua, sta giocando, ci mettiamo così, facciamo la porta qui qua davanti, te l'ho fatta io, non è che prende neanche l'altro,